Buongiorno, benvenuti a Gaffinio, uno spazio di libero confronto e di condivisione della conoscenza. Io sono Samuele e qui con me ci sono Eugenio. Buongiorno a tutti. E il professor Matteo Corrias. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, in questa puntata cercheremo di delineare una caratterizzazione dello spirito contemporaneo, a partire da un aspetto piuttosto peculiare, cioè gli effetti del contesto urbano sulla vita psichica dell'uomo moderno e inurbato. E lo facciamo attraverso l'opera e la riflessione di un grande filosofo, uno dei padri della sociologia. Sto parlando di Georg Simmel, vissuto tra la seconda metà del XIX secolo e il primo ventennio del Novecento. Sì, Georg Simmel può essere davvero considerato uno dei massimi filosofi del Novecento, purtroppo secondo me non sufficientemente noto e non sufficientemente sfruttato nella riflessione filosofica. In particolare oggi vorremmo riferirci a un saggio pubblicato nel 1903, il cui titolo in italiano suona così. La metropoli e la vita dello spirito. Si tratta di fatto del testo di una conferenza tenuta da Simmel all'inizio del Novecento. L'idea di fondo di questo illuminante saggio è quella per cui la grande città moderna, soprattutto in conseguenza dell'affermarsi dell'economia finanziaria da un lato, e della sistematica innervazione tecnologica del tessuto della quotidianità degli esseri umani che vivono appunto inurbati, sono caratterizzati essenzialmente da una accelerazione e da una intensificazione della stimolazione nervosa, afferma Simmel, cioè da una accelerazione della vita psichica nel suo complesso, e quindi un'accelerazione della stimolazione nervosa, cognitiva, emotiva, percettiva. Alla molteplicità e al sovraccarico degli stimoli, l'individuo, continua Simmel, reagisce mettendo in atto differenti meccanismi di difesa, ad esempio sviluppando capacità analitiche, sempre più sottili, sempre più raffinati, operando una attenta selezione delle esperienze, per evitare appunto gli effetti nocivi del sovraccarico esperienziale, e anche proteggendosi da coinvolgimenti emotivi troppo profondi che sarebbero per l'appunto dannosi per lui e per la sua vita psichica. Ecco, siamo in presenza di quella che potremmo definire come la vera e propria matrice del carattere, del carattere peculiare dello spirito contemporaneo. E come era in fondo già avvenuto in modo autonomo, grazie allo sviluppo dell'economia monetaria, di cui da sempre la città è stata sede, si diffondono degli orientamenti, diciamo così, di calcolo, di riduzione della qualità alla quantità, di esclusione di quanto non può essere abbracciato da operazioni logiche e di indole puramente quantitativa. Ecco, in effetti Simmel individua una relazione diretta e addirittura bionivoca tra l'economia monetaria, che appunto nella modernità è diventata economia finanziaria, quindi si è potenziata esponenzialmente, è un approccio prevalentemente logico e analitico alla vita. Vi propongo in particolare due passaggi in cui il discorso di Simmel è molto chiaro. Scrive, economia monetaria e dominio dell'intelletto si corrispondono profondamente. A entrambi è comune l'atteggiamento della mera neutralità oggettiva con cui si trattano uomini e cose, un atteggiamento in cui una giustizia formale si unisce spesso a una durezza senza scrupoli. E ancora, poco oltre, nessuno saprebbe dire se sia la disposizione intellettualistica dell'animo a spingere verso l'economia monetaria, oppure se sia quest'ultima a determinare la prima. Sicuro è solo che la forma della vita metropolitana è l'humus migliore per questa relazione di influenza reciproca. Più concretamente, in che modo, secondo Simmel, la disposizione intellettualistica favorita dalla vita metropolitana influisce sul carattere antropologico dell'uomo contemporaneo? In linea generale, Simmel sostiene l'idea per cui la vita all'interno del contesto metropolitano favorisca la tendenza al massimo individualismo. E finisce, più specificamente, per creare alcuni tipi umani piuttosto caratteristici. Direi tre in particolare, secondo l'analisi che propone questo autore. Ecco, il primo tipo umano che risulta appunto dall'azione specifica della metropoli sulla vita dello spirito è quello dell'eccentrico. Il tipo eccentrico nasce, cito ancora il testo di Simmel, la metropoli e la vita dello spirito, nasce dalla difficoltà di mettere in risalto la propria personalità all'interno delle dimensioni della vita metropolitana, che finisce per portare alle eccentricità più arbitrarie, il cui senso non sta più nei contenuti di tali condotte, bensì solo nell'apparire diversi, nel distinguersi e nel farsi notare. Il che in definitiva rimane per molti l'unico mezzo per salvare, attraverso l'attenzione degli altri, una qualche stima di sé e la coscienza di occupare un posto. Trovo che questa sia una riflessione di una profondità e di una lucidità davvero straordinaria. Il secondo tipo umano, disegnato appunto dall'impatto che lo stile relazionale metropolitano imprime sulla vita psichica dell'uomo moderno, è il tipo dell'arguto. L'arguto che è invece determinato da un altro carattere appunto del contesto metropolitano, cioè, cito ancora Simmel, la brevità è la rarità degli incontri che sono concessi a ciascuno. La tentazione di presentarsi in modo arguto, conciso, possibilmente caratteristico, è infatti straordinariamente più forte in questo caso che laddove la frequenza e la durata degli incontri fornisce a ciascuno un'immagine inequivocabile della personalità dell'altro. Ecco, anche questa è una riflessione particolarmente acuta e può fornirci anche un utile strumento per un'analisi tipologica di un fenomeno, diciamo così, o di uno stilema cinematografico abbastanza sfruttato dal cinema americano in particolare. Il tipo dell'arguto, dell'uomo o della donna che riesce a emergere in ogni situazione perché è particolarmente brillante, perché ha sempre la risposta pronta, perché sa sempre come cavarsela e in fondo non deve mai cavarsela perché tutto gli va bene, è sfruttato, ecco, è converso nella trama tipica del film di Natale americano, no? Quello in cui c'è il brutto anatroccolo che in genere è una ragazza che appare bruttina, almeno nel suo aspetto fisico, un po' goffa, limite un po' imbranata, sicuramente molto impacciata e che è costretta a confrontarsi con la collega o la conoscente a seconda dell'ambientazione, che invece appunto è arguta e incarna questa tipologia di persona brillante che sa cavarsela in ogni circostanza. Evidentemente il gioco consiste nel lasciare emergere progressivamente la bellezza interiore, vera o supposta, della protagonista, del brutto anatroccolo che finisce alla fine per fiorire in tutta la sua bellezza e in genere la conclusione è sancita dal coronamento anche del sogno d'amore impossibile, almeno inizialmente, della protagonista che riesce ovviamente a soffiare il belloccio di turno alla donna arguta, la sua antagonista che invece viene conculcata e punita dal destino e lo spettatore ovviamente percepisce questo risarcimento esistenziale dal fatto che insomma almeno nei film sia possibile ottenere questa forma superiore di giustizia che insomma diciamocelo pure fuori dai denti difficilmente nell'esistenza reale si riesce poi a ottenere perché chi è in ombra in genere nell'ombra ci rimane. Ma esiste, secondo Simmel, un terzo tipo psicologico e umano in generale che forse più e meglio dei due precedenti incarna l'individuo diciamo così plasmato dalla specifica atmosfera urbana e realizza quel meccanismo intellettualistico di difesa che abbiamo descritto. Questo tipo umano Simmel lo chiama con una parola francese il blasé. Blasé letteralmente significa disilluso, disincantato. Ecco, consentitemi di leggere un passaggio piuttosto esteso ma trovo che sia davvero molto interessante per la concinnità e per la linearità del ragionamento che vi è presentato. Forse, scrive Simmel, non esiste alcun fenomeno psichico così irriducibilmente riservato alla metropoli come l'essere blasé. Innanzitutto questo carattere è conseguenza di quella rapida successione e di quella fitta concentrazione di stimoli nervosi contraddittori dai quali ci è sembrato derivare anche l'aumento dell'intellettualismo metropolitano. Tanto è vero che le persone sciocche e naturalmente prive di vita intellettuale non tendono affatto ad essere blasé. L'incapacità di reagire a nuovi stimoli con l'energia che competerebbe loro è proprio il tratto essenziale del blasé. L'essenza dell'essere blasé consiste nell'attutimento della sensibilità rispetto alle differenze tra le cose, non nel senso che queste non siano percepite, come sarebbe il caso per un idiota, ma nel senso che il significato e il valore delle differenze, e conciò il significato e il valore delle cose stesse, sono avvertiti come irrilevanti. Al blasé tutto appare di un colore uniforme, grigio, opaco, incapace di suscitare preferenze. Ma questo stato d'animo è il fedele riflesso soggettivo dell'economia monetaria quando questa sia riuscita a penetrare sino in fondo. Nella misura in cui il denaro, con la sua assenza di colori e la sua indifferenza, si erge a equivalente universale di tutti i valori, esso diventa il più terribile livellatore. Svuota senza scampo il nocciolo delle cose, la loro particolarità, il loro valore individuale, la loro imparagonabilità. Nell'essere blasé culmina, per così dire, l'effetto di quella concentrazione di uomini e cose che eccita l'individuo alle massime prestazioni nervose. Con l'incremento puramente quantitativo delle stesse condizioni, questo effetto si capovolge nel suo contrario, cioè in quel singolare fenomeno di adattamento del blasé per cui i nervi scoprono la loro ultima possibilità di adeguarsi ai contenuti e alle forme della vita metropolitana nel vietarsi di reagire. Una possibilità in cui l'autoconservazione di certe nature si dà al prezzo di svalutare l'intero mondo oggettivo, il che infine fa sprofondare inevitabilmente la stessa personalità in un sentimento di analoga svalutazione. Una pagina densissima. Vorrei richiamare in particolare, a parte questa descrizione della figura del blasé così penetrante, così profonda, questo passaggio sul denaro e sugli effetti psichici della economia monetaria. Quando Simmel scrive, lo ripeto, nella misura in cui il denaro con la sua assenza di colori e la sua indifferenza si erge a equivalente universale di tutti i valori, esso diventa il più terribile livellatore, svuota senza scampo il nocciolo delle cose, la loro particolarità, il loro valore individuale, la loro imparagonabilità. Qui potremmo avviare un discorso che sarebbe peraltro piuttosto urgente e che in parte abbiamo già iniziato ad aggredire sul rapporto tra arte e economia monetaria, sul rapporto tra la capacità dell'uomo contemporaneo di produrre e di percepire il bello, e il bello artistico in particolare, e il vincolo economico, più specificamente monetario, a cui di fatto, volenti o nolenti, siamo sottoposti. E mi viene in mente un celebre aforisma di Oscar Wilde che definisce il cinico come colui che conosce il prezzo di tutte le cose, ma il valore di nessuna. Devo dire che Simmel, anche se scrive queste cose più di un secolo fa, è comunque molto attuale. Cioè, questa esigenza di autoconservazione imposta dalla città, incarnata nel tipo umano del blasé, ha delle conseguenze sui meccanismi dell'economia di mercato. Tra l'altro Simmel mostra di averlo compreso in maniera molto chiara. Scrive, a un certo punto, la vita urbana ha trasformato la lotta con la natura per il cibo in una lotta per l'uomo. La posta in palio non viene data dalla natura, ma dall'uomo. Qui, infatti, non si tratta solo della specializzazione, ma di qualcosa di più profondo, del fatto che l'offerente deve cercare di suscitare bisogni sempre nuovi e sempre più specifici nelle persone a cui si rivolge. La necessità di specializzare la propria prestazione per trovare una fonte di guadagno non ancora esaurita, una funzione non facilmente sostituibile spinge a differenziare, raffinare e arricchire i bisogni del pubblico, il che del resto porta evidentemente e necessariamente ad una differenziazione personale crescente all'interno del pubblico stesso. Cioè, qui, detto in altre parole, Simmel è arrivato a comprendere nel 1903 una delle leggi fondamentali del marketing, cioè l'esigenza di creare l'illusione che il prodotto offerto all'acquirente sia qualcosa di esclusivo. Se ci fate caso, la parola esclusivo, l'idea stessa di esclusività, è una sorta di chiave, di passepartout, che viene utilizzato per aprire la porta della cassaforte, alla fine dei conti, per aprire i portafogli. Il prodotto, insomma, è sempre esclusivo, a misura delle tue esigenze specifiche, costruito intorno a te e così via. Ecco, anche qui mi viene da riflettere sul fatto che quando si tratta in genere di cose di scarsissima rilevanza, si punta a presentare il prodotto come qualcosa di esclusivo. Quando poi, invece, si tratta di qualcosa che davvero deve essere costruito e ritagliato sulla base delle esigenze specifiche del singolo, pensiamo per esempio alle cure mediche, che devono essere esattamente pensate, progettate sulla base delle esigenze specifiche non del corpo umano, ma di quel corpo umano, in quel momento, in quel frangente specifico, ecco allora si inizia a seguire i protocolli standard, vero? Ecco, allora anche qui il paradosso è abbastanza evidente e direi che possiamo dedurne abbastanza facilmente che o è vera l'esclusività della prima situazione o è vera la standardizzazione della seconda situazione oppure sono false entrambe. Tutta questa riflessione di Simmel si incentra su quella parte di popolazione che vive in grandi centri abitati, invece non tutta la popolazione mondiale vive in grandi centri abitati. Sì, questo è verissimo ed è un'obiezione non solo lecita ma anche sensata, però vi invito a riflettere su questo. Diciamo che da sempre forse, fin da quando esiste storia dell'essere umano, la città può essere considerata come il vero e proprio centro propulsore della storia umana appunto e al tempo stesso è anche, soprattutto nelle epoche più recenti, la dimensione emblematica della condizione umana. Per l'appunto questo è ancora più vero nell'epoca contemporanea, che generalmente per effetto della comunicazione massmediatica si pensa, pensa a se stessa secondo degli standard che sono assimilabili a quelli che abbiamo descritto come tipici della vita delle metropoli. Cioè oggi anche chi vive in un piccolo borgo parlerà dell'esodo di Pasquetta o percepirà, spero si tratti almeno di una percezione indotta dall'esterno, lo stress del ritorno a casa la sera dopo una giornata lavorativa, parlerà dell'aperitivo, dell'apericena anche se si sposta di qualche chilometro semplicemente per andare dal bar del proprio paese al bar di un altro paese di qualche centinaio di abitanti o tutt'al più di qualche migliaio di abitanti. Insomma è chiaro che si tende ad assimilare, ad acquisire o a indossare in maniera più o meno autentica l'habitus del cittadino, dell'individuo inurbato. Questo Simmel lo aveva intuito in maniera molto chiara e appunto emerge chiaramente dal suo discorso come in fondo il tipo umano forgiato dalla vita psichica cui la metropoli moderna costringe può assurgere a sintesi, diciamo così, emblematica dello spirito moderno Tucur. Ecco vorrei citare in chiusura un'altra riflessione appunto di Georg Simmel da cui possiamo ricavare per l'appunto ciò che ho appena osservato. Scrive Simmel, lo spirito moderno è diventato sempre più calcolatore. All'ideale delle scienze naturali, quello di trasformare il mondo intero in un calcolo, di fissarne ogni parte in formule matematiche, corrisponde l'esattezza calcolatrice della vita pratica che l'economia monetaria ha generato. Solo quest'ultima ha riempito la giornata di tante persone con le attività del bilanciare, calcolare, definire numericamente, ridurre valori qualitativi a valori quantitativi. Ecco in questa riflessione devo dire con una certa sorpresa non posso impedirmi di ripensare a un saggio di un autore certamente molto distante per orientamento intellettuale e per statuto anche intellettuale rispetto a Georg Simmel, un autore che tuttavia è stato a sua volta un grande interprete della modernità e cioè René Guénon che nel suo celebre saggio il regno della quantità e i segni dei tempi, individua anche egli proprio in questa riduzione di qualsiasi aspetto qualitativo in aspetti, in elementi meramente quantificabili legati alla dimensione della quantità, uno dei caratteri distintivi del nostro tempo. Non vorrei trarre delle conclusioni ultimative, anche perché qui, come diciamo spesso, si tratta di costruire in maniera condivisa la conoscenza, però credo che gli stimoli che oggi abbiamo ricavato da questo straordinario autore possano essere un ottimo sussidio per la riflessione individuale e per una comprensione più profonda dei tempi nei quali viviamo.